Salve a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video completamente registrato in presa diretta nel quale vi farò vedere la FNX45 nel dettaglio, in ogni suo fottuto particolare quindi se siete decisi se prenderla o no, questo potrebbe essere il video per voi vi farò vedere praticamente tutto, se invece siete interessati a una recensione, prova di tiro, smontaggio, dettagliato andatevi a vedere gli altri video sul mio canale perché ne ho fatti davvero tanti riguardanti sia a questa replica che alle altre repliche che ho nella collezione, insomma magari disarmiamola perché contiene gas, non vorrei spararmi e mettiamola sicura allora partiamo come sempre nel mio video, credo, non mi ricordo, non vi faccio da un po', dal caricatore il caricatore è bello grosso in questa finitura cromata ok, il mio telefon intorno sta scaricando, meno male in questa finitura cromata che lascia un sacco di ditate però vabbè, è un caricatore ragazzi, niente di che dietro abbiamo il finto contattore dei colpi e la fantastica valvola del gas direttamente qua dietro cioè qua c'è la valvola e qua c'è la valvola di ingresso il caricatore è molto capiente, dovrebbe contenere circa 25 colpi nel mio caso qua ragazzi è rotto l'ho comprata rotto ma mi stanno mandando un pezzo di ricambio questi pezzi sono divisi, nella vostra non dovrebbe essere così comunque è molto comodo perché si può tirare in giù e caricare i pallini tutti in una volta fondello con il logo FN, al contrario, FN direi e basta più o meno, il caricatore del resto è abbastanza interessante qua abbiamo questi due dentini che servono per agganciare il caricatore a differenza, faccio vedere subito, di un caricatore Glock che aggancia il caricatore qua sul lato questo lo aggancia qua in questi dentini qua questo potrebbe essere un piccolo difettino perché potrebbero rompersi semplicemente comunque facciamo prima vedere il caricatore inserito nella pistola eccola qua e procediamo con la descrizione qua vedete montata la guancetta, anche se così non si chiama lo spessore, quello più piccolo nella competizione viene andata anche con quello un po' più bombato ho deciso di farvi vedere questo perché è più raro nei video che venga montato questo qui abbiamo un fantastico logo della FN con questa impugnatura molto ben fatta ovviamente in plastica abbiamo delle regature anche sul frontale dell'impugnatura e dall'altra parte ovviamente è completamente identico salendo abbiamo lo sgancio del caricatore un po' scomodo in metallo ambidestro ovviamente, tutto ambidestro questa pistola sia da una parte che dall'altra quindi quello che vi faccio vedere da una parte da una parte ce l'avete anche dall'altra prima di proseguire ulteriormente andiamo a vedere la trigger guard con questo motivetto qua come praticamente tutte le pistole che possiedo per facilitarne l'impugnatura e andiamo a vedere il grilletto stesso che in questa replica purtroppo è realizzato in plastica penso come nell'arma originale diciamo eccoci qua il grilletto è abbastanza standard niente di particolarmente comodo o strano ok? dopo di che salendo sul retro troviamo la sicura così l'arma è armata questa è un'arma double action quindi se io premo adesso arma al cane e spara invece in alto è disarmata la sicura fa un ottimo lavoro ragazzi non c'è il minimo gioco il grilletto viene completamente disconnesso una delle armi con la sicura migliore che possiedo molto molto affidabile e buona togliendola l'arma è armata e funzionerà prova a non sparare nessun colpo anzi togliamo il caricatore per sincerarti arma doppia azione e una caratteristica nascosta tra virgolette è il fatto che funge anche dal decocker spengendola verso il basso quando il cane è armato perché chiaramente quando è disarmato questo non fa niente l'arma viene decoccata il grilletto avanza e bisogna di nuovo ingaggiare la doppia azione per sparare questo per motivi di sicurezza proseguendo troviamo l'hold open che è molto piccolo e devo dire anche abbastanza difficilato da premere al contrario di quelle di altre pistole e nella sua nella parte mancina dell'arma se così possiamo trovare ogni tanto fail nell'esecuzione ma comunque di tutte queste cose ne parlo nella recensione non vi porterò via altro tempo andando avanti abbiamo il tasto di smontaggio che funziona solo quando l'arma è nella posizione oddio direi arretrata il carrello è nella posizione arretrata in questo video non vi faccio vedere lo smontaggio se vi interessa lo smontaggio trovate il link in descrizione oppure passando sul mio canale infine per finire la parte inferiore dell'arma abbiamo la placchetta con il numero di serie questo è un pezzo che molto spesso viene perso state attenti ragazzi perché basta sparare qualche colpo e questo viene giù io l'ho attaccato con l'attac ma non è sufficiente neanche attaccarlo con l'attac e una bellissima salita per accessori penso sia compatibile piccatilli credo ok andiamo ora a parlare del carrello dell'arma intanto qua sul lato vediamo i bellissimi loghi con il calibro 45 CP FNX 45 Tactical logo FN tutti incisi molto molto belli qua abbiamo queste zigrinature questi incavi per facilitarne l'armamento come ce l'abbiamo anche sullo frontale appunto per facilitarne l'armamento dall'altra parte abbiamo cose diverse abbiamo stainless steel la dicitura acciaio inossidabile e qua abbiamo il finto estrattore questo ragazzi ha fatto benissimo un pezzo in più inserito con addirittura il dettaglio rosso su di esso molto molto ben fatto FNH USA questa non ve la pronuncio VA made in USA non viene neanche scritto che è made in Taiwan ragazzi incredibile dietro abbiamo il cane molto particolare adesso faccio anche pratica a farvelo vedere eccolo qua molto particolare sul frontale abbiamo il finto percussore con la sportella del percussore faccio vedere anche una cosa che non molti fanno vedere il sotto del carrello quando è arretrato anche qua c'è una cura del dettaglio molto molto avanzata per questo piccolo dettaglio che vi faccio vedere guardate un attimo cosa succede quando io avanzo il carrello si vede poco avete visto? guardate questo pezzo gli hanno messo una molla apposta per fargli sorpassare il cane in maniera più agevole e non farlo bloccare questo è un dettaglio incredibile che fa capire la cura che ci hanno messo nel realizzare quest'arma sopra il carrello abbiamo un copri slit diciamo anche se poi una slit non è adesso vi lo faccio vedere con due viti che possono essere rimosse una e due con una comunissima brugola ora quella vite l'ho persa quindi non riuscirò più a rimetterlo qua esce questo tappino che è in metallo direi si è in metallo anch'esso e qua possiamo montare dei dot come ad esempio il trish con rms se non sbaglio molto semplice non è una slit ragazzi perché ha bisogno proprio di quattro buchi dedicati diciamo però c'è ed è una cosa ed è una delle cose che rende tactical tra virgolette questa pistola andiamola a rimettere così non perdo le viti molto molto semplice non vi accorgete non vi accorgete neanche che c'è se non lo sapete dopo di che abbiamo la canna bellissima in un acciaio opaco graffiante pesante che dà proprio la sensazione di solidità stessa cosa per adesso lo vediamo lo spegni fiamma con il calibro inciso sopra canna molto bella abbiamo tacche di mira che faccio un po' fatica a farvi vedere ma sono ben fatte in questo preciso istante non mi ricordo se sono regolabili quella davanti di sicuro quella dietro direi che sia difficilmente regolabile cioè probabilmente è regolabile ma dovete smontare mezza arma invece quella frontale è difficilmente regolabile però è regolabile si fa da sotto smontando l'arma e togliendo la canna canna invece abbiamo un bellissimo coprifiletto che una volta rimosso consente l'installazione di silenziatori una cosa che sicuramente coprerò in futuro e abbiamo questa vernice rossa abbastanza facile da togliere vedete che viene via semplicemente graffiandola con l'unghia ok epic fail non sta venendo via però basta un po' di carta vetrato magari una vernicetta nera per toglierla io non ne sento il bisogno perché appunto questo coprifiletto funge alla perfezione nascondendo praticamente tutto quello che conta ok ve la faccio vedere scarrellata poi direi che possiamo chiudere qua il video qua c'è l'interno tra l'altro qua è molto coperto dal grasso ma c'è scritto anche lì licensed by FN Herstatt e qua c'è il fantastico gruppo aria a forma di 45 cibi di munizione invece lì c'è l'interno della canna poco visibile bene ragazzi questo è tutto quello che avevo da dirvi nel dettaglio sulla FNX 45 una delle mie pistole preferite della collezione se volete altri video riguardanti questa pistola o le altre che ho passate sul mio canale iscrivetevi e commentate noi ci vediamo ad un prossimo video bella ragazzi a presto